Rieccoci ragazzi bentornati a tutti sul canale di Nickwingame Sono tornato in questa zona Perché adesso che abbiamo l'accesso a livello 3 Possiamo aprire questa porta e recuperare Un rig Che c'eravamo lasciati indietro Ok eccolo qua A posto So Cosa stavo dicendo Dormo male da quando hanno portato a bordo quel marchio Sono un po' Ecco L'unica cosa che ricordo bene Quell'ispezione ai motori Ho raggiunto la camera E invece del motore principale C'era Un cuore Un cuore grande Quanto la stanza che Batteva e batteva Poi Anderson ha detto qualcosa E quando ho riguardato Era di nuovo un macchinario Ma riesco ancora a sentire quel battito In lontananza Quasi rilassante Forse potrebbe aiutarmi a dormire Se riesco ad avvicinarmi abbastanza Magari proprio dentro Dove è caldo e buio Si Sicuramente si Allora E' stato un attimo Vi ho risparmiato la strada Perché L'avevo già fatta Scoprendo appunto Che non potevo Entrare Fino a quando non avevo L'autorizzazione di livello 3 Quindi Adesso possiamo tornare indietro E proseguire con la nostra Missione Con il nostro obiettivo Dunque ci vediamo direttamente Alla navetta ragazzi Ed eccoci qua Dunque La volta scorsa abbiamo Posizionato il radio faro Quindi Ora dobbiamo Andarcene da questa zona Dobbiamo raggiungere il ponte Abbiamo ancora Diverse rig da recuperare Ma sono bloccati C'è questo qui Negligenza Ehm Premeditata Trovo il rapporto sul ponte Quindi dobbiamo comunque Andare Anche cosa trova sul ponte Presumo Ehm Sì Vabbè Andiamo qua ragazzi Ehm E vediamo un po' che succede Stando sempre attenti Perché Purtroppo Come ben sapete La situazione Sta peggiorando Drasticamente Inoltre Il nostro povero Isaac Ehm E' accorto di munizioni E di kit Mi toccherà A questa Cazzo Errore Avaria della centralina Attendere Oh merda Ma che In arrivo Al ponte E meno male Troverò il rapporto sul ponte E' fatta Ehm Isaac Ha risposto una nave militare La USM Valor Han ricevuto l'SOS Già qui Che cosa ci fa Una nave militare E' di pattuglia Non importa Mi farei salvare Anche da una gaza Raggiungi le comunicazioni Riparato il sistema Avremo tutte le risposte Ok Ha giusto il sistema Di comunicazioni Trova righe Dell'ufficiale Delle comunicazioni Vorrei capire Se localizziamo Questo obiettivo Dove andiamo Ah sempre là Ok E se butto Un occhio qua Perché adesso Che abbiamo Il livello di sicurezza 3 Possiamo Recuperare Tutte quelle porte Porticine Armadietti E Cazzi e mazzi Che ci siamo lasciati Indietro Ovviamente Ma c'è Andate le luci Ora non vedo niente Vabbè Salviamo Prima di tutto E andiamo Ok Ok qua Non c'è altro Va bene È un kit Ragazzi Lo acquisto Assolutamente Sì Vabbè Ci teniamo Queste armi Per il momento Tanto so già Che qua uscirà Gente cattiva Di nuovo Attenzione Ok 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 Grazie a tutti. Attenzione ragazzi, panico. Ah, un'altra. Ricevo strani picchi di segnale quando comunichiamo. Se il problema è il sistema di comunicazioni si diffonde... No, non è questo. Ah, la porta del settore comunicazioni sarà... Vai alla postazione di controllo. Ah, Ayruk. Occhio a quel che dici. Credo che qualcuno ci ascolti. Prendi tutto, prendi tutto, apri tutto. Vai, 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 vai. Dobbiamo andare là? Va bene. No, 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 no. No, 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 no. Questo schifo c'era prima? Non lo so. Credo di no. Ok. ce ne stanno due cazzo merda ce ne stanno due ragazzi fermi spettate spettate ok autorizzazione confermata autorizzazione confermata autorizzazione confermata aia aia qui si va impianto elettrici impianti elettrici ah ok 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 porca troia autorizzazione confermata aia 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 allora sistema di comunicazioni disattivato la manutenzione è stata allegata la valora è in posizione di appena il sistema di comunicazioni fuori gioco qualcuno ha collegato tra loro le antenne e il sistema è associato quindi siamo fottuti allineamento delle antenne per attivare il sistema di comunicazione qualche antenne è salva se le sostituisco e creo un circuito senza interruzioni potremmo trasmettere un segnale a corto raggio ma dovrebbe bastare ok procedi io controllo le cose qua registro comunicazioni primo operatore Bailey a rapporto voglio registrare tutto questo ecco il rig la nome è sotto attacco ma il capitano Matthews si è rifiutato di inviare un segnale di soccorso sappiamo tutti perché questa è un'operazione illegale Aegis 7 era stato isolato loro lo sapevano noi lo sapevamo e abbiamo fatto pinta di nulla ora non più Mayday, Mayday, Mayday qui è la USG Ishimura richiediamo aspetta ma chiediamolo Cristo ha disattivato l'intero sistema di comunicazioni è la fine messaggio non inviato recuperato dal sistema rapporto sui progressi capitano Matthews a Paragon Jordan Luna questa è la mia ultima trasmissione in seguito mi assicurerò che il pellegrinaggio si completi senza interferenze abbiamo portato il sacro marchio a bordo il dottor Kain, esperto del marchio originale sta decifrandone i segreti mi scuso per aver posto Aegis 7 in quarantena il lavoro del direttore Eckhart potrebbe subire ritardi ma è in corso una sorta di epidemia tuttavia la trivellazione inizierà domani come previsto la CEC può annullare la sua operazione illegale ora che il pregio è nelle nostre mani vediamo se il governo terrestre insabia questo sia lode ad altra Matthews chiudo autorizzazione confermata prima di buttarci là dentro ragazzi prepariamoci perché potrebbe essere complicato come siamo messi? beh abbiamo un po' il po' di kit un po' di munizioni anche se le munizioni finiscono abbastanza in fretta eh anche i kit ma oh ma che bel posto eh già subito così sono manco entrato salve è bello che cazzo sui che cazzo sui che cazzo sui che dobbiamo fare? che dobbiamo fare? aspetta ah ho capito credo a eh aperta aperta eh Cos'è roba? E' tutto rotto, ragazzi. Non so se le posso ruotare queste cose, sinceramente. Non so se le posso ruotare. Non so se le posso ruotare queste cose. Allora... C'è questo... Così non va bene. Non so se le posso ruotare. 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 Attaccalo. Ok. Ma forse ci siamo. Non ne sono sicuro, ma forse ci siamo. Non so se le posso ruotare. E' no col cazzo. Non so se le posso ruotare. Non so se le posso ruotare. Non so se le posso ruotare. Forse ci siamo. Prova ad aprire un canale verso la Valor. Non so se le posso ruotare. Non so se le posso ruotare. Non so se le posso ruotare. Preparere. Qui USM Valor. Trasmissione su tutte le frequenze alla UFG Ishimura in risposta al segnale di SOS. Abbiamo raccolto la capsula 47 e ci avviciniamo alla vostra posizione. Questo messaggio si ripeterà ogni 30 secondi fino alla risposta. La capsula? Cazzo, la capsula lanciata da Emmord. C'è la creatura, era a volo. No, 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 no. USM Valor, rispondete. USM Valor. Oh merda, mi sa che questi qui fanno una bruttissima fine. Abbiamo l'azienda a lungo raggio? No, qualcosa blocca le paratie sul sistema di comunicazioni. Ma che? Io l'ho detto che quella creatura andava uccisa. Emmond l'ha liberata. Nello spazio. Perdendo anche una capsula di salvataggio, eh. Attenzione. Attiva l'antenna, va bene. Eh, vai a cagare. Venti? 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 Venti! 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 arrivati il registro personale fece la comunicazione del nostro visitatore è successo di nuovo per la terza volta negli ultimi qualunque lasso di tempo sia passato sono arrivato dopo il turno e ho trovato di nuovo al trasmettitore aveva un aspetto orribile non so se avesse dormito dall'ultima volta che ho assistito a questa stessa scena non è molto rassicurante vedere l'ufficile tecnico in quello stato non mi ha sentito entrare quindi questa volta ho solo ascoltato stava parlando di nuovo con l'equipaggio di comunicazione parlava poi ascoltava rideva anche Dio da quanto tempo qualcuno non rideva su questa cazzo di nave so che dovrei dire qualcosa a quelli del ponte tecnico ho già detto più volte che non abbiamo un equipaggio addetto alle comunicazioni che il sistema è compromesso in modo irreparabile che nessuno verrà a salvarci ma è come se non riuscisse a trattenere questi pensieri nella testa è come se fossero troppo ma lo capisco tutto su questa nave è troppo quindi questa volta lascio che parli se un trasmettitore rotto è un microfono che non emette altro che interferenze sono qualcosa a cui può aggrapparsi magari riuscendo così a far tirare avanti questa nave un po' più a lungo ci sono io chi sono io per giudicare e sì forse anch'io ho parlato in quello stesso trasmettitore un paio di volte dopo l'orario di lavoro non si sa mai come dice quella poesia la speranza canta melodie senza le parole e non finisce mai vabbè allora sto usando molto raggio a contatto spendiamo giusto questi due nudi per il raggio a contatto perché alla fine ragazzi cioè ricordavo che quest'arma era un po' così macchina legnosa macchinosa lentina però sta facendo il suo dovere oh cazzo mi ero dimenticato di ste cosi sono inquietantissimi potenziamento ah l'ama al plasma quindi questo non è questo mi scusi mi serve l'ascensore oh ok ecco e No, no, no. Non lo so dove sto andando ragazzi ma stiamo andando a finire in un posto veramente brutto, dobbiamo attivare l'antenna quindi probabilmente dobbiamo uscire fuori. Sentite questi rumori. Errore, paratie ostruite. E' strana. Non trovo la Valor. Che succede alla gana? Cazzo, lo sapevo. E' il Leviatano. Si è impigliato nel sistema di comunicazioni dopo che l'abbiamo espulso. Vuole proprio arrendersi. Isaac, non abbiamo tempo. Ne abbiamo se usi i cannoni SDA. Puntamento manuale come prima. Posso spararlo via dallo scafo. Ce la farò? Tu pensa alla Valor. D'accordo. Distruggi i resti delle Leviatano. Sarà un bel problema ma noi ragazzi sempre sprezzanti del pericolo ci buttiamo. Perfetto. Non dobbiamo capire come affrontarlo perché... Questa cosa non c'era nell'origine. Attenzione. Corri Isaac. Corri, insomma. Vabbè, distruggiamo questo, eh. Ah, eccovi. Sentite il sound. Ok. Attenzione. Non è SDA distrutto. No. Oh, 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 oh. Aia. No. Eh, vabbè, ma che cacchio. No, non riesco a backhardo ragazzi. Siamo morti. Siamo morti. L'ossigeno. Niente, l'ossigeno. Ragazzi. Eh, ragazzi. Ma vaffanculo. Allora. 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 Spondamento manuale attivato. Partiamo subito. Attenzione. E uno. E' andato. Non è SDA distrutto. Occhio. Occhio. No. Immediatamente. Spondamento manuale attivato. Ah, in pieno. E due. Vai di ossigeno. Cannone SDA distrutto. Che cacchio sta sparando? Occhio, 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 occhio. Eh, quando arriviamo lì ragazzi non abbiamo più ossigeno. No, niente. Ripartiamo il posto. Spondamento manuale attivato. Che cacchio. Che cacchio! Che cacchio! Che cacchio! Che cacchio! Atenzione. Cannone SDA distrutto. Ahhhh. è distrutto lo abbiamo distrutto? si è morto? riprovo con il rilascio manuale dell'antenna sicuro? fermi l'ossigeno si è morto ragazzo no insomma il dubbio ce l'hai sempre uscita da gravità zero uscita dal vuoto si finalmente USM Valor qui Kendra Daniels della USG Ishimura non aprite la capsula di salvataggio ripeto non apritela mi ricevete? mi sa che è tardi ecco troppo tardi si dirige verso di te tienici forte unico cazzo Daniels che c'è? qualcosa ha colpito il ponte era un asteroide? sono entrate nella Valor una nave di salvataggio hanno trovato la tua capsula e quello che era cena è oh cazzo la Valor è andata quando un'altra nave riceverà l'SOS saremo già morti no è quello che dico ho trovato una navetta sul ponte equipaggio intatta il registro dice che le manca il nucleo non ci porterà a casa un momento forse se il nucleo energetico della Valor è integro lo recupero e lo installo sulla navetta ce ne andiamo da qui dov'è la Valor? alle comunicazioni stabilizzaci Isaac vado alla Valor con una tuta Eva vediamoci lì cerchiamo il nucleo la CEC si arrangi io salvo il possibile che casino ragazzi c'è di male in peggio quindi devo andare là dove devo andare? ah di là Isaac sono a bordo la Valor è devastata posso andare al ponte cosa diavolo era? uscita da gravità zero uscita dal moto capitolo 8 completato capitolo 9 oltre ogni speranza minchia che macello ragazzi vabbè io mi fermo qui con questo episodio le cose vanno di male in peggio voi come sempre fatemi sapere la vostra lasciatele condividete iscrivetevi al canale se vi fa piacere e noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti